Torno a far discutere il tema delle bande di giovani ragazzi intenti in atti criminali, quali aggressione e rapine nel sud milanese. Questo fine settimana è successo a Sedreano, dove i carabinieri hanno arrestato tre ragazzi, tutti e tre di 19 anni, di origine equadoregna, ma regolarmente residenti in Italia, per rapina aggravata e lesioni aggravate. I fatti sono accaduti in via Fagnani. I tre avvicinano un ragazzo minorenne di 17 anni, con il quale, stando alla dinamica ricostruita dai militari, avevano avuto dei dissapori in passato. Abitano infatti tutti e quattro nella stessa zona, ovvero le case popolari di Sedreano. Pretendono dal 17enne il telefono cellulare davanti alla sua resistenza, dunque tirano fuori un coltello e lo feriscono al volto e alle mani. E portandogli via il cellulare, si allontanano. Il 17enne dunque chiama i soccorsi, viene trasportato all'ospedale di Magenta, dal quale è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni a causa delle ferite riportate. Sul posto dunque anche i carabinieri, che si mettono subito sulle tracce degli aggressori, trovati poi a poca distanza dal luogo del reato. Tra le mani il telefono della vittima. Scattano le manette e tre vengono portati al carcere di San Vittore.